Anche i dati sulla mobilità e sulla situazione delle cattedre dopo tutti i movimenti forniscono un quadro a dir poco difficile della ripresa a settembre. Le elaborazioni fornite dal Ministero dicono con chiarezza che ad oggi ci sono 85.000 cattedre in organico di diritto prive di docenti. La situazione, come è facile intuire, non è omogenea sul territorio nazionale. Ci sono regioni e province con un numero limitato di cattedre scoperte e province in forte sofferenza. Per esempio per la scuola primaria sono disponibili ancora 350 cattedre in Sicilia, 450 in Campania, ma in Lombardia i posti vacanti sono più di 3.200, in Piemonte più di 1.000 e in Veneto poco meno di 1.300. Nella secondaria di secondo grado le cattedre di posto comune rimaste scoperte sono più di 27.000, poco meno della metà però sono concentrate in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Ma la situazione più pesante riguarda i posti di sostegno. 22.000 risultano vacanti, ma a questi andranno aggiunti i 50.000 posti che, come ogni anno, verranno istituiti in deroga dagli uffici regionali. E a questo proposito dobbiamo anche segnalare un dato importante. Prima delle operazioni di mobilità risultavano vacanti meno di 18.000 posti, diventati 22.000 dopo i movimenti. Questo significa che diverse migliaia di docenti si sono spostati dal posto di sostegno al posto comune. L'unico settore in cui i posti vacanti sono diminuiti rispetto ai numeri pre-movimenti è quello della secondaria di secondo grado. Qui i posti comuni disponibili erano infatti 32.000 prima dei movimenti, sono diventati 28.000. I dati nel loro complesso sono decisamente allarmanti e inducono a guardare con non poca preoccupazione all'avvio del nuovo anno scolastico. Un problema importante si porrà già nei primi giorni di settembre, quando le scuole dovrebbero organizzare attività di recupero e sostegno per gli alunni in difficoltà. Senza dimenticare che alle 85.000 cattedre scoperte bisognerà aggiungere le quasi 50.000 di sostegno e le 50.000 che dovrebbero essere istituite per far fronte alle necessità legate alla emergenza, più alcune migliaia di posti per l'organico di fatto. A mitigare la situazione ci saranno certamente alcune decine di migliaia di assunzioni in ruolo, ma nel complesso il quadro rimarrà molto pesante. Il prossimo anno scolastico, su un totale di poco meno di un milione di insegnanti, i precari saranno certamente più di 150.000, ma c'è chi ne prevede addirittura quasi 200.000, con tutte le conseguenze che ormai conosciamo bene. Del tema noi continueremo ad occuparci, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro sito www.tecnica della scuola. Scriveteci, mandateci le vostre opinioni, le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come al solito. Grazie. 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 Grazie.